salve a tutti cari iconisti il video di oggi sarà breve una volta tanto si parla ancora di f4 perché insomma non si smette mai di parlare dell'f4 ci sono sempre tante cose da dire vi parlo del dorso mf 22 avrete già visto il video che parla dell'mf 23 il suo fratello maggiore dorso quello più interessante ed utile rispetto a questo adesso capiremo anche perché lo considero tra virgolette inutile questo dorso datario ma veniamo subito al dunque e andiamo a vedere come si utilizza il dorso datario mf 22 per poterlo utilizzare chiaramente bisogna inserire la batteria si tratta di una batteria a litio non ricaricabile di tipo cr 2025 basta svitare con un cacciavite o una monetina questa vite qua inserire la batteria in questo verso qui quindi non così ma così e riavvitare rispetto al suo fratello maggiore mf 23 questo mf 22 ha pochissimi tasti e un display davvero molto molto più piccolo ma non cambia solo l'impostazione di come è fatto il dorso ma anche cosa può scrivere e quali funzioni ha oltre a quella di datario perché questo dorso non ha nessuna funzione che non sia strettamente quella del datario quindi non può fare null'altro che scrivere la data sopra alla fotografia quindi nel fotogramma mentre l'mf 23 può scrivere tra un fotogramma e l'altro oppure sulla fotografia oppure tutte e due le cose contemporaneamente questo può solo scrivere sulla fotografia e cosa può scrivere beh può scrivere la data quindi mese giorno anno oppure data come numero del giorno e l'ora nient'altro tutto qui ora vi faccio vedere come si configura ma è molto molto semplice con il primo tasto il mod possiamo cambiare quello che viene scritto qui nel display c'è scritto 87 che è la data 1987 mese 1 giorno 1 perché adesso appena messo la batteria e si è resettato la batteria sappiate che dura circa quattro anni con una media di 50 rullini al mese questo dice nikon quindi insomma un'autonomia davvero enorme quella lineetta qui sopra nel display indica che verrà stampato questo dorso può sempre solo stampare le cose l'unico modo per non fargli stampare una data è andare nella modalità in cui non scrive niente e adesso vediamo come si fa allora se premo mode una volta cambia la modalità di visualizzazione qui vediamo giorno 1 ora e questo è l'orario e adesso non è impostato mezzanotte 03 se premo ancora una volta passa in questa modalità qui ossia l'unica modalità in cui non scrive nulla sulla pellicola quindi in questa modalità qui non scriverà nessun tipo di informazione sulla pellicola premendo ancora cambia la visualizzazione della data e quindi anche il modo di scriverla in questo modo la scrive come mese giorno anno premendo ancora una volta passa la modalità giorno mese anno premendo ancora un'ultima volta si torna diciamo dall'inizio anno mese giorno per cambiare la data è molto semplice basta andare in una modalità a caso in cui si vede la data adesso scelto quella più convenzionale per l'italia quindi giorno mese anno premere il tasto select e lampeggerà il primo indicatore quindi posso cambiare il l'anno premo il tasto aggiust finché ovviamente la data non diventa quella che voglio e posso andare avanti quanto mi pare e qua scopriremo subito il problema di questo dorso siamo arrivati al 2019 guardate cosa succede se premo ancora una volta quindi voglio passare al 2020 torna a 87 questa dicesi obsolescenza programmata questo dorso non può scrivere date che sono superiori al 2019 questa cosa qui è davvero un limite abbastanza importante perché l'unica utilità di questo dorso è segnare la data se non lo può segnare giusta a cosa serve il dorso datario una soluzione che si può adottare ed è quella che ho adottato io alcune volte è quella di scegliere per dire 2021 e segno 1 adesso sono andato sul 2 però segno la data così quindi so che ok non è il 2001 2002 quello che è ma siamo nel 2021 2022 quello che sarà quindi potrebbe essere un escamotage per poter utilizzare per cambiare il mese stessa cosa premo sempre select cambio il numero del mese che sono mese 5 mese 6 e scelgo poi il numero del mese che ne so andiamo al 2 giugno 3 giugno andando in questa modalità ossia quella dove si vede il giorno e l'ora posso cambiare l'ora premo select come ho fatto prima e vedete che posso cambiare l'ora adesso metto un'ora a caso che ne so metto le 10 le 11 di mattina poi con select passo a cambiare anche i minuti e metto che ne so le 11 e premo a caso e 16 minuti poi premo ancora select per confermare adesso confermato che è il giorno 3 un giorno a caso adesso non siamo il giorno 3 ore 11 e 16 minuti e in questo modo ho settato tutto il mio dorso datario un'utilità che può avere questo dorso è quello per esempio di segnare sulla prima foto fatta in un giorno la data magari non so tutte perché la data non è corretta no noi segniamo 0 1 per dire 2021 però se noi sulla prima foto del giorno segniamo la data quindi non so il 3 giugno 2021 e la stampigliamo sulla foto poi tutte le altre mettiamo la modalità questa qui che adesso la trovo questa qua dove non non salva la data abbiamo la prima foto del giorno con la data e tutte le altre dopo no e quindi in questo modo almeno ci ricordiamo che giorno abbiamo fatto le foto e potrebbe tornare utile però per il resto questo dorso secondo me ormai è più una cosa da museo che una cosa da utilizzare perché appunto non può segnare il 2020 21 eccetera perché non può segnare queste date beh è molto semplice perché altrimenti essendo che non ha tasto indietro solo avanti se questo dorso qui potesse andare avanti che ne so fino al 2100 se uno ha sbagliato cliccando avanti e fa il giro deve fare il giro deve arrivare fino a 100 e tornare all'inizio secondo me avrebbero potuto bellamente farlo con tutte le date perché se uno sbaglia ok è vero che deve fare tutto il giro però quante volte la imposti la data la imposti una volta ogni 4 anni visto che la batteria dura tantissimo e quindi non è un grosso problema peraltro se uno ha sbagliato e non vuole fare tutto il giro basta che rimuove la batteria e la rimette se è resettato da zero e quindi il problema è risolto secondo me è stata una scelta molto limitante quella di nikon di mettere questo limite fino al 2019 in questo caso ci troviamo davvero di fronte a un oggetto con l'obsolescenza programmata un'obsolescenza programmata ad oltre 30 anni dalla sua produzione però comunque un'obsolescenza che è stata decisa in partenza per questo oggetto il mio consiglio qual è se volete un datario per la f4 compratevi l'mf 23 che è molto molto più bello vi lascio il link qui sotto del video che ne parla sicuramente un dorso più utile e soprattutto che permette di salvare anche le date di oggi 2021 22 eccetera senza nessun limite grazie per aver seguito anche questo video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto di mettere un mi piace al video e di seguirci anche su facebook grazie a tutti